Ho vissuto una straordinaria esperienza in Burundi. Siamo stati in mezzo ai malati, siamo stati a giocare con loro nei villaggi con una semplice palla fatta di carta, siamo stati nei tanti orfanatrofi dove ci sono tanti bambini che hanno bisogno di essere aiutati. Ero stato in Africa per portare speranza e invece mi sono arricchito della loro fiducia nella vita e della loro voglia di vivere. Questi sono i due dottori dell'ospedale che gestiscono e che fanno di tutto, diciamo che si occupano sia della maternità, dei patti, dei cesari e poi dei bambini. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori